Otturatore meccanico contro otturatore elettronico? Questa è una domanda che mi avete fatto in tantissimi. Finalmente ho deciso di portarvi un contenuto per spiegarvi la differenza tra questi due tipi di otturatore e quando conviene utilizzare uno piuttosto che l'altro. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende, ho diverse fotocamere nel mio zaino, sia reflex sia mirrorless, e con entrambe, perché questa è una tecnologia che esiste da un po' di anni, con entrambe possiamo scegliere se utilizzare l'otturatore meccanico o l'otturatore elettronico. Nel corso del video di oggi andiamo a spiegare la differenza tra queste due diverse tipologie di otturazione. Prima di cominciare io vi invito come sempre a iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che vi sto insegnando qualcosa di interessante. Facciamo un passo indietro e cominciamo dal principio. Quando scattiamo una fotografia, l'otturatore stabilisce la durata della nostra esposizione, quindi è un meccanismo che serve per decidere quanto a lungo dobbiamo mantenere il sensore in posa per catturare la nostra immagine. Ora, quasi tutte le fotocamere disponibili in commercio hanno un otturatore meccanico, la maggior parte ha anche un otturatore elettronico, stanno cominciando a uscire dei modelli che hanno un otturatore elettronico ma non hanno più quello meccanico. Quindi siamo in un momento, in una fase un po' ibrida, dove sicuramente ci sono tutte e tre le possibilità, ma dobbiamo stare attenti a quello che abbiamo comprato. Cominciamo, anche per correttezza storica, a parlare di otturatore meccanico. L'otturatore meccanico funziona tramite l'ausilio di due tendine, due tendine che scorrono dall'alto verso il basso e che espongono la nostra immagine, espongono il sensore alla luce. Quindi noi abbiamo una prima tendina che si apre, scorrendo dall'alto verso il basso, espone la nostra immagine e dopodiché abbiamo una seconda tendina che si richiude. Come mai questo sistema della doppia tendina? La tendina sostanzialmente serve per mantenere l'esposizione omogenea su tutto quanto il sensore e man mano che noi andiamo a modificare i tempi di scatto avremo la prima tendina che si apre, avremo un tempo durante il quale il sensore rimane esposto e poi avremo la seconda tendina che si chiude. Più noi andiamo a restringere i tempi di scatto, più l'intervallo tra la prima e la seconda tendina si assottiglia, quindi potremmo arrivare ad avere le due tendine che scendono quasi contemporaneamente, di fatto lasciando scoperta solamente una fetta del sensore per volta. Questo è quello che succede quando andiamo ad aumentare la velocità di scatto. Al contrario, l'otturatore elettronico non presenta parti fisiche in movimento, quindi si svolge tutto elettronicamente, non abbiamo delle componenti che si muovono veramente e l'otturatore elettronico funziona più o meno come un vecchio scanner. Vi ricordate gli scanner? Avevano quelle testine che andavano avanti e indietro e scansionavano pian piano tutta l'immagine. L'otturatore elettronico funziona nello stesso modo, nel senso che va a leggere riga per riga fino a catturare tutta quanta l'immagine. Parliamo un attimo dei vantaggi di questo otturatore elettronico. Sicuramente una velocità maggiore. Nel momento in cui noi utilizziamo un otturatore meccanico abbiamo a che fare con dei limiti fisici. Normalmente un otturatore meccanico ha la massima velocità intorno all'otto millesimo di secondo, che è tantissimo, però tenete conto che con un otturatore elettronico arriviamo a un sessantaquattro millesimo, quindi diversi ordini di grandezze di velocità in più. Questo grazie al fatto che appunto non abbiamo più delle componenti mobili che si devono muovere, ma abbiamo una lettura pressoché istantanea del nostro fotogramma. Ovviamente riga per riga e questo può comportare dei problemi, però abbiamo dei tempi di otturazione potenzialmente molto più rapidi. Ovviamente questo comporta che siamo in grado di catturare delle scene con dei movimenti più veloci. Laddove magari con l'otturatore meccanico per congelare quel movimento sarebbe servito un flash, con l'otturatore elettronico siamo in grado di congelare un'azione che si svolge più rapidamente, in virtù del fatto che l'otturatore scatta più velocemente. Questo ci porta anche ad avere una raffica maggiore. Se noi facciamo delle raffiche con l'otturatore meccanico abbiamo dei limiti, con l'otturatore elettronico questi limiti vengono abbattuti. Infatti vedete che su molti modelli, soprattutto recenti, c'è proprio la distinzione. Abbiamo per esempio 12 frame al secondo con l'otturatore meccanico e 20 o 40 frame al secondo con l'otturatore elettronico. Quindi capite che c'è una bella differenza. Abbiamo molta più velocità quando utilizziamo l'otturatore elettronico. Un altro vantaggio è la riduzione dello shock dello specchio. Nel momento in cui noi scattiamo il fatto che si apra lo specchio e poi scatti l'otturatore meccanico sulle vecchie reflex comporta una vibrazione. Una vibrazione che spesso può creare un micromosso all'interno delle nostre immagini. Con l'otturatore elettronico niente di tutto questo succede più perché non c'è più nessun movimento. Non ci sono più parti mobili e quindi lo scatto avviene senza l'introduzione di nessun tipo di vibrazione. Passiamo però ai contro perché l'otturatore elettronico ovviamente non ha solo aspetti positivi. La prima cosa in cui ci imbattiamo quando scattiamo con un otturatore elettronico è sicuramente il rolling shutter. Ovvero una distorsione dell'immagine in certe condizioni. Quando stiamo fotografando qualcosa che si muove molto velocemente e in particolare qualcosa che si muove da una parte all'altra ci imbattiamo in questo fenomeno di deformazione. Questo dipende dal fatto che siccome il nostro otturatore elettronico legge riga per riga nel momento in cui il mio oggetto si sta muovendo legge la prima parte e poi il mio oggetto si sposta e poi legge la seconda parte e il mio oggetto continua a spostarsi e così via. Quindi il mio soggetto quale che sia diventerà oblungo, si ovalizzerà perché l'immagine viene letta in momenti diversi. Questo è il primo grande problema dell'otturatore elettronico. Anche perché tenete conto che spesso gli otturatori elettronici non hanno una lettura velocissima quindi ci mettono abbastanza tempo a scansionare tutta l'immagine da far sì che ci sia questo effetto di distorsione. I sensori stacked di molte fotocamere di fascia alta un po' prevengono questo effetto però lì si tratta di spendere di più perché stiamo andando su delle fotocamere di fascia più alta quindi sono più costose proprio per questo sensore stacked. Un altro effetto collaterale è il bending cosiddetto perché si creano delle scie, delle fette di esposizione diversa all'interno della nostra immagine. Il vecchio effetto flickering nei video, ve lo ricordate? Quello sfarfallio prodotto dall'illuminazione artificiale. Questo è dovuto al fatto che l'illuminazione artificiale, compresa quella lampadina lì dietro di me, hanno una certa frequenza di emissione. In particolare in Italia e in Europa usiamo i 50 Hz, negli Stati Uniti usiamo i 60 Hz quindi in Italia tendenzialmente si gira a 25 frame al secondo e un cinquantesimo di secondo così siamo sulla stessa frequenza della nostra corrente, negli Stati Uniti usiamo i 30 frame al secondo e un sessantesimo di secondo così di nuovo siamo esattamente sulla stessa frequenza ma quando facciamo fotografia può essere che dobbiamo gestirci i tempi in maniera diversa soprattutto se stiamo usando un otturatore elettronico magari ci serve velocità magari dobbiamo scattare con dei tempi di otturazione molto più rapidi ed ecco che possiamo cominciare a vedere del bending che dipende proprio dal fatto che la frequenza della nostra luce, delle nostre luci artificiali cambia nel tempo e se la velocità di lettura del nostro sensore è inferiore alla velocità di emissione della frequenza della nostra luce artificiale ecco che vediamo la nostra immagine con delle aree esposte diversamente. Sempre per lo stesso motivo con l'otturatore elettronico può essere più complicato sincronizzare correttamente con i flash. Sapete che quando utilizziamo il flash con l'otturatore meccanico era molto semplice perché abbiamo delle tendine che ci fanno capire immediatamente come dobbiamo sincronizzare ci sono anche delle linee guida ben precise di solito col flash si scatta tra un cinquantesimo e un centottantesimo e non abbiamo grossi problemi. Con l'otturatore elettronico questi limiti vanno un po' rivisti è possibile che possiamo scattare a delle velocità di sincronizzazione superiori però è anche possibile che ci troviamo parti dell'immagine esposte in maniera diversa perché la durata del lampo del flash può non sincronizzarsi con la velocità di lettura del nostro sensore. Ora andiamo a vedere invece i vantaggi dell'otturatore meccanico perché anche lì ci sono dei vantaggi sicuramente. Primo fra tutti il rolling shutter è molto più difficile che si presenti. Non è impossibile. Possiamo avere rolling shutter anche con l'otturatore meccanico però è molto più difficile quindi la prima cosa che mi viene da dire è se stiamo scattando e notiamo rolling shutter nelle nostre fotografie proviamo a reimpostare l'otturatore meccanico. È un tentativo che possiamo fare. Anche per quanto riguarda il fenomeno del bending di cui abbiamo parlato poc'anzi è molto più difficile che si presenti quando scattiamo con l'otturatore meccanico. Personalmente io non l'ho mai riscontrato con l'otturatore meccanico quindi me la sentirei di dire che è quasi impossibile avere del bending con l'otturatore meccanico. E vantaggio che per me personalmente è molto importante la sincronizzazione col flash. Quando io scatto con un otturatore meccanico sono tranquillo che la mia sincronizzazione con il flash è perfetta e non ho sorprese di sorta. Gli svantaggi dell'otturatore meccanico in gran parte li abbiamo già detti. Sicuramente abbiamo delle velocità più ridotte. Arriviamo a un 8 millesimo invece che a un 64 millesimo quindi abbiamo delle velocità molto più ridotte di scatto e di conseguenza anche delle velocità più ridotte sulla raffica. Un altro problema è dovuto alla vibrazione che l'otturatore meccanico introduce. Un altro problema di cui molti non parlano però è un problema vero e bisogna tirarlo fuori ogni tanto l'usura perché l'otturatore meccanico è la componente più soggetta a usura in assoluto su tutta la fotocamera forse al pari delle ghiere però è una parte che prima o poi va sostituita. Ecco che con l'otturatore unicamente elettronico forse siamo al superamento di questo limite tecnico e non dovremo più andare a sostituire le parti mobili che non ci sono più. Ecco però che abbiamo una tecnologia ibrida di cui vado a parlarvi in questo video per completezza che è l'otturatore con la tendina anteriore elettronica. Si tratta di una tecnologia ibrida e sulla maggior parte delle fotocamere la troviamo già anche sulle fotocamere di qualche anno fa perché mi sembra sia stato introdotto nel 2007. In particolare se utilizzate fotocamere Canon passate in Live View e utilizzate la modalità otturatore silenzioso. Quando utilizziamo questa funzione che sarà presente anche su altri brand ovviamente soltanto che magari il nome sarà lievemente diverso quando utilizziamo questa funzione l'otturatore meccanico è già aperto perché stiamo praticamente lavorando in modalità Live View quindi stiamo lavorando con il display l'otturatore meccanico è già sollevato lo specchio è già sollevato nel momento in cui noi andiamo a scattare la fotografia viene registrata con l'otturatore elettronico però abbiamo la seconda tendina che si chiude quindi è la via di mezzo perfetta tra le due tecnologie è più silenziosa perché non abbiamo lo scatto dell'otturatore completo e non abbiamo lo specchio che si solleva abbiamo solamente la seconda tendina che si chiude e la registrazione dell'immagine comincia con l'otturatore elettronico. Un vantaggio è che lavorando in questo modo la macchina è più reattiva perché è subito pronta a registrare l'immagine non deve compiere l'azione di sollevamento dello specchio o di apertura della prima tendina ma è già pronta a cominciare a registrare quindi abbiamo una macchina più reattiva potenzialmente diminuiamo il lag tra il momento in cui premiamo l'otturatore e il momento in cui la fotografia viene effettivamente catturata. Ovviamente abbiamo meno shock da vibrazioni come già detto e la velocità di sincronizzazione con il flash in molti casi può aumentare probabilmente fino a un duecentocinquantesimo quindi un pochino di più rispetto a quanto siamo abituati con l'otturatore meccanico. I punti deboli di questo sistema ibrido la velocità di raffica non cambia perché anche se noi cominciamo a catturare l'immagine con la prima tendina già aperta la velocità totale della raffica dipende dalla seconda tendina e quindi la velocità della raffica rimane quella dell'otturatore meccanico. Non abbiamo vantaggi supplementari di velocità in più. Ovviamente anche qui è possibile che avremo dei problemi di bending quindi problemi dovuti alla frequenza della luce artificiale con zone di esposizione diversa anche se in misura inferiore rispetto all'otturatore elettronico. Una cosa che a me non piace per niente di questa modalità ibrida è che lo sfocato, il bokeh sullo sfondo può risultare rovinato. In particolare le sfere di bokeh quando abbiamo i punti luce e vogliamo trasformarle in sfere con un'ottica con una grande apertura ecco quelle sfere possono risultare disturbate, possono risultare non omogenee e possono presentare degli artefatti piuttosto bruttini da vedere. Questo è un grosso problema dell'otturatore con tendina anteriore elettronica, è veramente una cosa per cui bisogna pensarci molto bene se usarlo oppure no. Ora come fare a scegliere tra questi tre sistemi? Facciamo un po' di chiarezza. Sicuramente la modalità elettronica è da preferirsi se ci troviamo in condizioni di dover fotografare qualcosa che si muove molto rapidamente. Quindi sto pensando allo sport, sto pensando a tutto quello che presenta delle azioni veloci. Sicuramente lì è da preferire l'otturatore elettronico perché ci dà dei vantaggi, ci permette di scattare più rapidamente, ci permette di catturare meglio l'azione, ci permette di fare raffiche più veloci. Quindi sicuramente è da preferire l'otturatore elettronico in questi casi. Inoltre l'otturatore elettronico è completamente silenzioso per cui ci sono una serie di casi, teatro, musica classica, fotografia a competizioni di golf o altri sport dove comunque il click della macchina fotografica può disturbare gli atleti. Se stiamo facendo una partita di golf e scattiamo con l'otturatore meccanico il rumore dà molto fastidio. In molte competizioni di livello alto è vietato, quindi siamo costretti a usare la modalità elettronica in certi casi. Poi se ci rendiamo conto che abbiamo problemi come per esempio abbiamo l'ovalizzazione dei nostri soggetti oppure abbiamo del bending evidente, possiamo provare a modificare la velocità. Se noi aumentiamo o diminuiamo la velocità può essere che troviamo la frequenza giusta a cui il bending non si presenta più e può essere che aumentando la velocità diminuiamo l'ovalizzazione dei nostri soggetti in movimento. Quindi aumentando la velocità diminuiamo il rolling shutter, mentre diminuendo la velocità o comunque variando la velocità possiamo andare a mitigare l'effetto bending. Segnalo che su molte macchine esiste anche la modalità di rilevamento del flickering, quindi è una modalità che va usata con parsimonia perché quello che fa è che va a cercare di individuare la frequenza dello sfarfallio e nel momento in cui noi scattiamo la fotografia ritarda di qualche decimo lo scatto vero e proprio in maniera tale da beccare l'attimo tra uno sfarfallio e l'altro. Io direi di impostarla se ci rendiamo conto di avere del bending ma altrimenti no perché va a differire il momento in cui noi scattiamo e quindi magari ci fa perdere l'azione che volevamo catturare. Quindi a seconda dei casi dobbiamo decidere se impostare questa funzione oppure no. Comunque con questa panoramica spero di avervi illustrato bene come funzionano i tre diversi tipi di otturatore. Abbiamo capito più o meno quando usare uno e quando usare l'altro. velocissimo recap otturatore meccanico se stiamo scattando con il flash o se stiamo scattando in un contesto con delle luci artificiali che sfarfallano otturatore elettronico quando stiamo scattando delle azioni molto rapide quindi sport competizioni oppure se ci serve l'otturatore completamente silenzioso anche per gli animali può essere una buona idea perché l'otturatore gli può dare fastidio otturatore ibrido può essere una buona scelta quando uno dei due sistemi precedentemente elencati presenta dei problemi quindi se abbiamo problemi con l'otturatore meccanico con l'otturatore elettronico può essere una buona idea provare il sistema ibrido perché può essere che risolva i problemi personalmente vi dirò che io 98 per cento delle volte utilizzo l'otturatore meccanico perché non faccio sport perché lo conosco molto meglio e perché mi trovo bene a scattare così prima o poi l'otturatore meccanico verrà rimosso da tutte le macchine non ci sarà più un sistema supplementare di cui non ho parlato è quello del global shutter per il momento solo sony ha introdotto il global shutter praticamente è un otturatore elettronico che però non legge più riga per riga ma legge tutto contemporaneamente ovviamente è il sistema migliore il sistema ideale che possiamo immaginare perché elimina tutti i difetti di tutti i tipi di otturatori di cui abbiamo parlato però va a introdurre delle altre problematiche come per esempio potrebbe introdurre un rumore maggiore come per esempio potrebbe aumentare di parecchio i costi di produzione e di conseguenza aumentano anche i costi della macchina fotografica nel momento in cui noi andiamo ad acquistarla dobbiamo pagarla molto di più perché c'è dietro una componente gestita in modo diverso e una ricerca e sviluppo che ovviamente le case ti fanno pagare quindi è un sensore al momento molto proibitivo molto costoso anche se ovviamente è il sogno erotico della maggior parte dei fotografi avere un sensore del genere bene amici con questo io credo di avervi detto proprio tutto fatemi eventuali domande nei commenti qui sotto come sempre io vi risponderò sia in forma scritta sia con degli shorts verticali vi ricordo di iscrivervi al canale così non ve li perdete quelli di voi che si iscrivono adesso avranno il 90 per cento di possibilità in più di riuscire un giorno a potersi permettere una fotocamera con sensore global shutter io come sempre vi ringrazio di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.